Ciao a tutti, spero che mi scuserete, sono completamente struccata, non ho neanche un figlio di correttore, le sopracciglia inesistenti quasi, però sono qui al lago, ho un attimo di tranquillità, sentite che silenzio, più o meno, una tranquillità infinita, il mio mimo sta dormendo in braccia alla mia mamma, alla nonna, quindi sono in pace e volevo farvi vedere questo bellissimo panorama, non è il lago di Garda, è il lago di Lidro e volevo farvelo vedere un attimino. Se riesco, se faccio un giritto, vi faccio vedere altre immagini, è proprio a 5 minuti da dove abito io, 10 dai, in macchina, amo questo posto perché è molto tranquillo, è più fresco di dove abito, e niente, così volevo farmelo vedere un attimino, farvi partecipi del mio sabato pomeriggio sera, saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.